Sicuramente è stato un grande intervento e importantissimo più che altro. Ho avuto un attimo di paura quando mi stava puntando senza nessun difensore perché avevo paura che calciassi mentre io ero in movimento, però per fortuna dopo ho deciso di aspettare ancora un po' e dopo uno contro uno ho vinto il duello. Sicuramente nel secondo tempo ogni momento poteva essere decisivo, è stato molto più decisivo perché dopo dieci minuti neanche Mi Salvi ha fatto il nostro 2-1, quindi è stata ancora più soddisfazione di fare questa parata per la squadra. Sicuramente un portiere anche se la partita può finire 10-1 si è sempre ammaricato per il gol subito, però oggi sono contento per la prestazione e non dispiaciuto però un po' ammaricato per il tre gol subito e per il pareggio che secondo me poteva andare, evitando un po' di episodi negativi secondo noi, secondo me poteva andare un po' meglio la partita. Sicuramente corre, abbiamo volontà, la stanchezza non la sentiamo e dopo anche le altre squadre soffrono un po' e quindi noi veniamo fuori soprattutto nei minuti finali come è successo oggi che abbiamo pareggiato e si poteva anche vincere secondo me. Il pallone passa, centrale però, gemello!